Claudio Mandia si è tolto la vita, mentre era solo ed incustodito da tre giorni a confermare la ricostruzione dei fatti. Stavolta sono i genitori dello studente di Battipaglia. Trovato morto in un college di New York, in una nota diffusa dei legali americani che stanno seguendo il caso del 17enne, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto hanno definito primitive le misure punitive adottate dall'istituto. Nei confronti del loro primo genito, Claudio accusato di aver copiato un importante compito d'esame, sarebbe finito in isolamento per tre giorni e temendo l'espulsione dal college si sarebbe tolto la vita. Non a caso già nelle scorse ore i legali della famiglia Mandia avevano accusato l'istituto di aver sottoposto il ragazzo a trattamenti inimmaginabili, sul caso in corso un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria americana. Mentre si attende il via libera per il rimpatrio della salma in Italia, i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria della Speranza, parrocchia Battipagliese a cui Mandia sono molto legati. Claudio era un ragazzo dolce, educato, una persona per bene, ricordo di padre Oezio Miceli, viceparroco che conosce bene la famiglia del 17enne, ma in queste ore tutta la piana del Sele ad essere addolorata. È una tragedia immane, io non provo neppure ad immaginare cosa possa significare perdere un figlio di 18 anni, per me è inimmaginabile, è innaturale. Ovviamente rispetto ad una morte di un ragazzo così giovane è sempre una tragedia, poi diventa una tragedia ancora più grande se questa morte si è stata provocata da qualcuno.